Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Nordest End Come sempre ragazzi, inizio il gameplay Ricordandovi che se può interessarvi, in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri giochi scontati In descrizione vi ricordo che trovate anche i miei canali social Ad esempio TikTok, Telegram, Twitch, il mio sito web e quant'altro Ultima cosa, come sempre, ormai la sapete, come si dice, cotta e cruda Ultima cosa, se vi volete iscrivetevi al mio canale YouTube io ovviamente vi ringrazio se lo fate E se lo fate ricordatevi anche che potete attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni volta che carico un nuovo video sul canale Allora dunque, mi sono dimenticato di portarmi dietro la lama Vabbè poi, poi in qualche modo la porto Me la so scordata Vabbè posso anche lasciarla lì dove è per ora Allora ragazzi, dunque, dunque, dunque Finalmente Ho, diciamo, finito l'altra mia mod Mi sono deciso a riprenderla e finirla Almeno dovrebbe essere finita E praticamente, raga, ho finito la mia mod Quella dei, come si chiamano, dei fichi d'India E l'ho già mandata alla Giants Vabbè, mo' ci vorrà parecchio tempo Sappiamo la Giants è lenta Quindi, se tutto va bene Magari esce tra un mese Ci vorrà sicuramente un mesetto Ma comunque adesso, oggi ve la faccio vedere E così, così un po' ve la ricordate Perché comunque L'ho abbandonata per parecchi mesi Non ci ho messo mano per un po' Io so così C'ho i periodi in cui mi va di fare una cosa Cioè, i periodi in cui non mi va di fare una cosa Allora, facciamo così, ragazzi Ora vi faccio vedere la mod che l'ho completata Però, effettivamente, famo così Meglio i fichi d'India che le banane Perché le banane in Italia, ma sai che proprio Non ci stanno Togliamole Togliamo sti alberi di banane E ci mettiamo piuttosto i cactus I fichi d'India che sono più Più azzeccati Le banane meglio in un In un posto più In una mappa più adatta Non lo so, sinceramente In che mappa ci possono stare Ma, penso che in Italia però non ci stanno Allora, raga, dunque Ah, dunque, aspetta Prima di farvi vedere la mia mod dei fichi d'India Volevo mettere un'altra cosa Voglio mettere il compost Quello che uso anche nell'altra serie Così, perché siccome pure qua abbiamo le serre Mi torna utile E allora ho pensato Facciamolo pure qua un attimino Questo compost Magari proprio qui Che è una bella zona Perfetto Così Lo famo poi questo compost Allora Qui abbiamo gli alberi di mele Sì Dove mettiamo questi cactus? Questi fichi d'India Dove li mettiamo? Ci vorrebbe una zona da abbellire Una zona quasi Mi verrebbe da dire Da riempire a cactus Però A dove? Potrei metterli qua sotto Ci stanno? Sì che ci stanno Allora ragazzi Vi faccio vedere Produzione Serra Ecco qua Fichi d'India Allora Vediamo Punto di scarico Si vede chiaramente Punto dell'acqua Ecco Il punto dell'acqua Dovevo cambiarlo Ho messo quello sbagliato Ho messo quello Il simbolo Di scarico Ma in realtà Lì ci va l'acqua Ho sbagliato simbolo Vabbè Fa niente Allora Comunque Questo Quindi Lo vado a piazzare qua E quindi qua Appariranno Sì Appariranno in mezzo alla strada Praticamente Sti cactus Cioè I cosi I pallet Appariranno un po' In mezzo alla strada Ma fa niente Allora Quindi Questa è la La serra Diciamo è una serra Alla fine E Poi ho messo Anche le decorazioni Quindi Le decorazioni Significa che Non producono niente Sono solo Decorazioni Solo giusto per Abbellire Quindi se vogliamo Magari ingrandire Questa Chiamiamola macchia Di Di Fichi d'India Se vogliamo Metterne di più Magari Perché È piccola La macchia Se volete fare una macchia Diciamo Bella grossa Allora si può Estendere così E poi ho messo Anche quelli Senza Senza Frutto Penso che ci stanno Pure Quelli senza Frutto Quindi tipo Magari a metterli qua Quelli con frutto Insomma Si può Creare Una bella Chiamiamola macchia No Ovviamente Qui devo lasciare Libro Per l'acqua Però Beh no È meglio Lasciarlo Libro Ok Che ve ne pare Altro Beh il punto Vendita L'ultima cosa Da mettere È il punto Vendita Mi sono ispirato Ai punti Vendita Che si vedono Come questo Che è di un'altra Mod Solo che io L'ho fatto più Non ci ho messo Il personaggio Perché a dire La verità Non so neanche Come hanno fatto A metterlo Vabbè Più o meno L'idea ce l'avrei Ma mica posso rubare Un personaggio Di un'altra Mod Quindi Nel mio Punto vendita Non c'è nessun personaggio Per ora almeno Vabbè ma tanto sapete Che poi le mod Si possono aggiornare Quindi Per ora Ho deciso Di fare così Ecco Di fatti Qui c'è Il punto vendita Col personaggio E il mio Non ce l'ha Il personaggio Ma Ma andrà bene Lo stesso E pensavo Di Piazzarlo E beh Volevo piazzarlo qua Ma il problema Che qui spazio Non ce n'è Che qua c'è Questo Fiumiciattolo Questi 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 fiumi Qua insomma Che passano Messo qua Mi pare un po' Lontano dalla farm Potrei metterlo Nell'altra mia Sì Da questa parte Che qui Abbiamo Produzioni Cose Ecco qua Come punto vendita Ci sta Alla grande Sì Allora Qui come Punto vendita Ci sta Bene Lo piazziamo Proprio Se sta Telecamera Non si muove Magari Così quasi Lo piazzo Qua Ecco Che ve ne pare E abbiamo Il punto vendita Per i fichi D'India Ma ha rotto Le balle State la camera Fatemelo dire Oh Ok Quindi io la mod L'ho Praticamente Completata Diciamo Almeno Lato Produzione Sì Cioè Non ho Creato Una fabbrica Per creare Tipo Succhi di frutta Con Con Il fico D'India No Perché chiaramente Magari poi con questo Fico d'India Ci si può fare altro Per ora Non ho fatto Una fabbrica Perché richiede parecchio tempo Ho pensato Per ora Rilascio la mod Solo come prodotto Poi in futuro Magari come aggiornamento Potrei aggiungere pure Una produzione Di succo di frutto Da aggiungere nella mod Ovviamente Come aggiornamento Siccome richiede tempo Lo posso poi fare Come aggiornamento Quindi per ora Ho fatto che Ho fatto che insomma È solo così Insomma Ok Sto rumore Tipo Vabbè sì Il rumore Che vengono abbeverati Anche se nella realtà In genere Boh Forse qualcuno lo fa Però Vabbè E Allora Si gestisce da qua È molto facile Alla fine Fichi d'India Acqua Fichi d'India Stop Non ci vuole altro Più o meno Allora Dovrebbe fare Dunque L'acqua Ho calcolato Che dovrebbe Durare Quattro giorni Un pieno di acqua Quattro giorni E dovrebbe Produrre In quattro giorni Dieci pallet Dieci Perché Quattro di acqua Due fichi d'India Quindi Da ventimila di acqua Escono fuori Diecimila Di Fichi d'India Cioè Dieci pallet Quindi In pratica Sono Due pallet E mezzo Al giorno Di fichi d'India E E Insomma Vabbè Qui ci entrano Circa otto Nove pallet Quindi Quindi comunque Non dovete Stare lì a spostare Poi i pallet Spesso Vabbè Sto a parlare Come se la mod È già disponibile No non lo è L'ho passata Dalla Giants C'è da aspettare E Ah giusto Vi devo far vedere Un po' Il tutto da vicino Vabbè Ma la mod Ve l'avevo già Fatta vedere Anche in passato Perché L'avevo già Fatta vedere E Ed è così Insomma Ora Ci mettiamo L'acqua Vabbè Che tanto L'acqua In teoria Ci abbiamo Noi L'autodistribuzione Ah comunque Aspetta Prima di Metterci L'acqua Tanto C'ho Un'altra Cosa Da fare Prima che Me ne Dimentico Mi Servo Un trattore Ah Vediamo Se possiamo Ah Non si possono Scaricare Le patate Madonna Tutte Ste patate Che Ce Faccio Ho buttato Un mucchio Di semi Perché Ho già Finito Di seminare Magari Vabbè Mi sa che Non me le Ripaga Vabbè Comunque Mandiamogli Indietro C'è Ormai Fatto Peccato La prossima Volta Sto più Attento Un attimino Devo mettere L'operaio A lavorare Perché Ah già C'è Manca Una cosa Eh vabbè Perché Dobbiamo fare Quel compost No Allora Devo Un attimino Lavorare Qua Perché Con quest'erba Ci facciamo Compost Per le serre Solo per quello Perché non ci si fa Altro con quel compost Allora Ma Fai due giri Di campo Tanto è uguale Dal punto D'inizio Vai Almeno così Questo finisce Ok Allora L'acqua Potrei Darla Io Ma Non ricordo Sì Mi pare Che ce l'avevo La botte Ah comunque A proposito Di acqua Ovviamente Già che c'ero Raga Ho sistemato Anche La mod Quella Che produce Legna Più che altro Perché Se ricordate Quella mod Lì C'aveva Il C'ha Il problema Del Del punto Dell'acqua Dove si scarica L'acqua Che non è buono Ecco L'ho sistemato E già che c'ero Ho sistemato Altre cose In quella mod Ho migliorato L'estetica Dei pallet Ho migliorato Ehm Ho aggiunto Anche Ho aggiunto Anche Una segheria Che accette Pallet Di legna Ehm Ho aggiunto Una Produzione Media Insomma Io ho dato Anche a quella Una sistemata E vabbè Ora poi Ve la farò vedere Anche quella L'ho già passata Alla Giants Come aggiornamento Ovviamente Perché la mod Era già uscita Ma dove Caspita È la bot Dell'acqua Sicuro Che si Trova Ah si Perché no Forse è qui Ma non mi fa vedere I cosini E questo Eccola qua Fabriche 2 Ora poi Vabbè Magari Il prossimo gameplay Vi faccio vedere Anche quindi La mod Aggiornata Questa Del Della legna Perché Sinceramente Tra tutte le mod Che ho creato Quella della legna È quella Che ha I peggiori voti Nel mod Hub Peggiori voti Perché purtroppo Con quel trigger Dell'acqua Che l'ho messo male Giustamente La gente Poi mi va A votare male La mod Quindi Ho dato Una bella Sistemata Ai problemi Ho anche messo Più Esposto Il serbatoio Dell'acqua Così non è neanche Complicato Scaricare È molto semplice Adesso E moce Da Da aspettare Che poi La Giants Controll E se tutto va bene Uscirà L'aggiornamento Allora Dunque Mi serve Che prendo Un attimo Questo Comunque Devo vedere Veramente Questo personaggio Qui Perché Se fa parte Di farming Ma ne dubito Questo non fa parte Di farming È troppo brutto Questo sicuro Che lo hanno Preso Da qualche altra Parte E lo hanno messo Nel gioco So Capace a farlo Pure io Però insomma Non è che puoi Prendere la roba Da altri giochi E metterla qui No Devi avere Insomma Cioè È roba di copyright No Quindi Anche perché È vero che Il capanno Che uso io È uguale a quello Ma fa parte Di farming Tutto quello Che fa parte Di farming Si può usare Tranquillamente Nelle mod Quindi Non è un problema Quindi no Tutto quello Che fa parte Di farming Non è un problema Do stai? Allora Si torna Ma quel pallet Era da vendere Di vestiti Mi pare Devo ricordarmi Intanto Mi serve Dell'acqua Qua Qua acqua Non ce n'è Ah qui c'è Aspetta Fai così Vai Quindi qua C'è Il mio Come dire Punto vendita Dei fichi d'India Per abbellimento Ho messo Le cassette Con i fichi d'India Queste sono Le cassette Che appaiono Poi Vicino alla pianta Un operario Intelligente Mi capiterà mai A me Madonna mia Vabbè Ormai Ho fatto vedere Due secondi E quindi Per ora Produce solo Fichi d'India Per la vendita Poi in futuro Magari Potrei pure Creare un edificio Che ci fa altro Ma per ora Per ora no Per ora no Perché Richiede parecchio tempo Creare quel tipo Di edificio Allora Mi serve Dell'acqua Qui c'è dell'acqua C'è anche un peso Che dovrei ancora Prendere Questa è acqua buona Da caricare Sì Ok Fatemi controllare Questa serra Questa serra Non ha acqua Te Pensa Perché l'acqua doveva Finire Un altro Un altro pozzo Un altro pozzo di acqua Qua è un po' Stretto Qua non mi piace Molto Potrei metterlo sotto Questo albero Anzi qua Vai Un altro pozzo Di acqua Che l'acqua Non ci basta Spendo un mucchio Di soldi In acqua Allora Andiamo Ad abbeverare I figli di india Più che altro Per farvi vedere Che funziona E devo cambiare Questo simbolo Caspita Non c'entra niente Con l'acqua Ci devo mettere Il simbolo dell'acqua Questo qua Non va bene Questo è buono Tipo se ci va Qui magari Con cime Però In teoria Non penso Ci vuole Con cime Per una pianta A grassa No Basta acqua In teoria Però L'avrei fatto Allora Posso ancora Caricare Dell'acqua Pure da qua Perché mi pare Che c'è Ma si Ce la fallo A lui Allora Andiamo a mettere Subito Ma quello che Sta a fa No Si vabbè Domani Finisci Te Si Così Non finirai Mai Ma che si Scemo A voi Aspetto Quando è che Finisce Mai Finisce Con tutti Con tutti i modi Che ci sono Di lavorare Sto terreno Ti metti A lavorarlo Così E quando dobbiamo Finire Fra vent'anni Oh Che c'è Ma veramente Va Io mi dissocio Allora Questo Lo vado a rimettere Che era qua Mi sta bene Benissimo Allora Te Mi fai un buon lavoro Mi raccomando No come a quell'altro Ok E Poi C'era quell'acqua Ne approfitto Che faccio Si che ho speso soldi Ma Beh Un po' di acqua Penso che conviene Che gliela do Ormai Cioè L'ho caricata Che faccio Meglio la do Ok Ah si Aspetta Stavo a dire Gli abiti erano da vendere Se Ci vuole Qualcosa Un carrello Potrei mandare Te Ci potrei Ah si 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 Ci potrei Mandare Te Ok Ok E Tu hai Già Finito Sai che te Dico Che io mi carico Altra acqua Ok Aspetta 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 E c'è quella lana Meravigliosa Che faccio Già che c'ho sto Io la porto Ah c'era anche L'altro carrello Ma questo Andrà bene pure Allora Mi avete detto Raga Che Posso anche caricare I pallet Quelli non pieni Però devo scendere Dal veicolo Per farlo Allora Allaccia Inizia a caricare Eh no Quello non carica Solo carica Solo caricabile Aspetta Carica tutto Aspetta Mi sto confondendo Ah Carica tutto Vabbè Chi lo sapeva No Accidenti Una parola Amo uscire di qua Con sto cacchio Desnotabile Non ce la fai neanche A guidare Nell'acqua E' un punto Di me Proprio Questo Che mi sono scelto Vabbè Comunque Carica tutto Grandi Ragazzi Grazie Per l'informazione Beh sicuramente Sarà utile Anche Per voi Per chi Come me Non lo sapeva Allora Emo l'acqua Qua dentro Ma va fuori No va fuori Meno male Perché tutto Quello che va Dentro E' un Macello Ok Mi serve Un trattore Con Cassone Da carico Dovrei averne Uno Da qualche parte A trovarlo Non ce l'ho Non ho un cassone Da carico E forse Non ce l'ho Effettivamente Effettivamente E' possibile Che io Non ho un cassone No Dovrei andare In negozio A prenderne Uno No Perché non ce l'ho Ok Allora Mi assicuro Che non ce l'ho Eh No Non c'è Posseduti Non c'è Ok Allora Cassone Da carico Sì No Ne piglio Uno buono Oh Vabbè Questo andrà Bene Non dovrebbe essere Tanta erba Noleggia Allora Tu Fammi una cosa No Vabbè Uguale Non lo carico Dai Chi è che si è bloccato Allora Visto che possiamo fare carica tutto A questo punto Non dovrebbe essere un problema Difatti Allora Dove che Dove che Ah Vendeva il GLS Che è qua dietro Questa è un'altra Delle mie mod Quella che fa i cappelli Di paglia Ok Chi è che si è bloccato Accidenti Giusto Ok Allora Ma io farei passare Anche già una giornata Così vi faccio vedere Comunque Che appaiono I fichi d'India Quando alla fine L'erba Non mica sparisce L'ho già tagliata Rimane lì Al massimo Ricresce un pochetto Almeno vi faccio vedere Che appare un pallet Di Aspetta Però prima che appare Devo fare una cosa Per farla apparire Devo fare una cosa Devo andare su I fichi d'India Ma chi è Intanto devo attivarlo Caspita E poi Generare Ok È partito Caspita Ok E mo Ci vorrà un po' Intanto arrivano soldi Debiti non ne abbiamo Questa è la serie Senza debiti Ok Perfetto È partito Con la generazione Dei fichi d'India Non dovrei avere problemi Con l'acqua Adesso Anche negli altri posti Perché tanto Stiamo Tranquillamente Abbiamo tre pozzi Intanto arrivano Tanti soldini Buono Da Dai meloni Da tutto quello che è Insomma Allora Siamo a 734 Dai tra un po' E ve l'ho detto Due pallet e mezzo Al giorno Quindi A breve Dovremmo vedere Un primo pallet Dovrebbe apparire qua Ah i pallet Sono leggeri Ragà Non pesano niente Eccolo là Praticamente La cassetta Più che pallet La cassetta Pesa 20 kg Quindi la si può Prendere a mano Tranquillamente Le cassette Sono leggerissime Quindi Non è un problema Potete tranquillamente Spostarla a mano Metterle su Uno scaffale Quello che vi pare Potete metterle Un po' Dove vi pare In attesa Di venderle Certo L'unico problema È che appare Fichi d'India Non ha accettato qui Che è una rottura Di scatole Se magari poi smette Bene Insomma Questo sicuramente È comodo No Il fatto Il fatto che È leggero È comodo Difatti Lo so Dovrei modificare Anche La fabbrica Quella Dovrei modificare La fabbrica Dei cappelli Di paglia Perché in teoria La paglia Cioè Roba di paglia Cosa dovrebbe pesare Dovrei modificare Anche quella Rendere Sì Sì Dagli una piccola Sistematina E aggiornare Anche quella mod Dovrei Vediamo Raga Per intanto Vi ho fatto vedere Quindi che finalmente La mod Dei fichi d'India Dai L'ho completata L'unica cosa Che vorrei Un po' Migliorare Adesso Che l'ho guardata Un attimino Cioè Adesso che me ne so Accorto Più che altro Non che non l'ho guardata Una cosa che vorrei Sistemare E cambiare Il simbolo Dell'acqua Con quell'altro Che non è giusto E mi piacerebbe Metterci un tizio Mi piacerebbe Metterci il tizio Nel punto vendita Devo solo capire Se magari nel gioco Posso prendere Un personaggio Perché lo devo Prendere dal gioco Possibilmente Per metterlo lì Per abbellimento Ma se non ci riesco Niente Se no Va a finire Che con la mod Mi blocco Poi va a finire Che per una cosa Piccola Una mod Si blocca E non esce proprio Quindi L'unica cosa Che sicuro Vado a fare E cambiare il simbolo Metto quello Dell'acqua E basta Anche perché Cioè Il simbolo giusto Che devo mettere Nella mia mod E questo Questo qua Devo mettere Devo mettere Questa icona Invece di questa Ok E per il resto Niente Non ho altro Da farvi vedere Per ora Poi vi farò vedere Gli aggiornamenti Che ho apportato Alla mod Quella della legna E basta Non lo so Insomma Mo starete a dire Nick tornerai a fare mod Non lo so Dipende Perché Dipende Dipende Da quanto è complicata Una cosa Perché A certe volte Mi dite Nick fa i trattori Ma fare un trattore Richiede pure 7-8 mesi Cioè A parte che Non sono capace A prescindere Però anche volendo Una cosa simile Richiede mesi No Non lo farei mai È troppo Troppo tempo Troppo complicato No Mi piacciono le cose Mi piacciono le cose Più semplici E sbrigative Magari Una cosa Che ci metto Una settimana Due a farla Piuttosto che Mesi Ok Raga Quindi Io Niente Conclude il gameplay Che il tempo L'ho finito Spero vi sia Piaciuto E come sempre Mi raccomando Commentate Scrivetevi Lasciate un bel Pollice Nel su Ci si becca Ragazzi Ciao Alla prossima